Sono Gallini Riccardo e mi occupo della divisione industriale italiana del attivo al settore ingegneristico di NTN-SNR. NTN-SNR è un leader a livello mondiale nella componentistica volvente meccanica presente in svariati settori a partire dalla General Industrie, a partire dall'Aerospace e dall'Automotive. La mission di NTN-SNR è quella di essere interamente dedicata nel suo sviluppo applicativo al cliente, tant'è che uno tra i nostri slogan principali e essere il best to work with. Alla luce proprio di questo voto aziendale tutti gli sviluppi tecnologici sono volti all'affinamento nonché alla possibile potenziale soluzione di quelli che sono le problematiche applicative dei clienti. Parlando proprio dell'evento in questione, questo maintenance story, abbiamo presentato quella che è un'evoluzione, un affinamento evolutivo dal punto di vista tecnologico del coating dei materiali. Abbiamo presentato il concetto di rust guard, quindi un'evoluzione del coating di fosfatazione, soprattutto dedicato a clienti che hanno un'esigenza applicativa dal punto di vista della protezione nei confronti della contaminazione dell'acqua. Sviluppando questo concetto e destendendolo non solo a livello di meccanica volvente, all'anello interno, all'anello esterno, ma alle piste e ai corpi volventi. Quindi la peculiarità di queste soluzioni investono non solo la General Industrie, ma anche gli svariati settori in cui NTN-SNR opera.